Ben ritrovati con la Rassegna Stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Conte alla festa del FattoQuotidiano.it dice Concessioni Autostrade, sto sollecitando i ministri, dossier aperto, da troppo tempo va chiuso subito, possibile taglio IVA per breve tempo, obiettivo e piano cashless. Il Presidente del Consiglio risponde a Peter Gomez e Simone Ceriotti, dalla banda larga alla riduzione dell'IVA fino alle ipotesi di premiare le transazioni cashless e poi il rapporto con Grillo e Zingaretti, il caporalato, la giustizia e il nodo trasporti. Regionali centrodestra si spartisce i candidati in Toscana, Puglia, Marche e Campania, da Ceccardi a Fitto, riconfermati Zai e Toti. L'annuncio è una nota congiunta firmata dai tre leader della coalizione, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, a Corroccio gli stessi posti di Fratelli d'Italia, ma uno è il ricandidato governatore del Veneto. In Puglia torna Fitto, già governatore, fino a 15 anni fa. Forza Italia di Candida Caldoro dal 2010 ha sempre sfidato De Luca vincendo la prima volta e perdendo la seconda. Amministratori sottotiro il rapporto di avviso pubblico. Ogni 15 ore una minaccia a sindaci o consiglieri e con la crisi aumenteranno. Il dossier, gli atti intimidatori o contro consiglieri, agenti di polizia locale e sindaci, in tutto sono stati 559 nel 2019, ma c'è il rischio che quest'anno aumentino con la crisi economica e sociale innescata da Covid-19. La Campania si conferma la zona con il maggior numero di intimidazioni. Lombardia ha prima ragione che non è a sud, pesa alla presenza dell'Andrangheta. Ponte Morandi, Bucci dice, è urgente sapere se dobbiamo consegnarla ad autostrade o no per il collaudo, altrimenti non potrà aprire. Sindaco di Genova e commissario straordinario avanza l'ipotesi che l'opera resti finita, ma inutilizzabile. Se non arriveranno risposte, ho già detto che siamo pronti a risalire il Tevere in barca. La riapertura alla circolazione è prevista entro fine luglio. Banda larga il piano di grillo, troppi ritardi e dubbricazioni, lo Stato compi la maggioranza di team per creare una rete unica integrata. Il cofondatore del Movimento 5 Stelle entra a gamba tesa nella partita Open Fiber Team, chiedendo un ricambio ai vertici della partecipata di Enel e CDP e auspicando che lo Stato, sempre attraverso cassa depositi e prestiti, salga al 25% dell'ex monopolista per raggiungere una quota almeno pari a quella di Bollaret. Poi cerchi di liquidarlo. A quel punto avremo la maggioranza di team per avviare la creazione di un'unica società integrata a rete mobile 5G. Banda ultra larga. Notizie da Napoli e dalla Campania. Coronavirus in Campania, altri 6 contagi, 0 vittime ma nessun paziente guarito. Il bilancio del coronavirus e dell'unità di crisi della regione Campania ha aggiornato alle 17 di oggi 6 casi positivi su 1.350 tamponi. Dall'inizio della pandemia i contagi sono 4.624 su un totale di 266.472 tamponi. Nessuna vittima. Il numero dei morti resta a firma 431 e nessun paziente guarito. Complessivamente sono 4.060. Uber cresce in Italia. Entro fine servizio taxi a Napoli. La nostra visione per l'Italia dove nel 2019 oltre 4 milioni di persone hanno aperto le app Uber che vede un rapporto taxi-macchine con conducente per numero di abitanti tra i più bassi d'Europa e di diventare una vera e propria piattaforma di mobilità che includa diverse alternative di trasporto dagli NCC ai taxi, dalle biciclette elettriche ai monopattini fino alla possibilità di includere nella pianificazione di viaggio anche il trasporto pubblico locale. Lo ha detto Lorenzo Pireddu, General Manager Uber Italia, intervenendo all'evento di presentazione della quarta edizione della conferenza nazionale sullo sharing mobility dal titolo Les Cars, promosso dal Ministero dell'Ambiente, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Notizie da Treviso e dal Veneto. Montebelluna non ce l'ha fatta la postina centrata in pieno sull'auto di servizio, Avelina Fedrigo, 41 anni, è morta a causa delle gravissime ferite riportate nello scontro tra la sua Panda e una Porsche all'incrocio tra la Feltrina e via Argine e via Cal Trevigiana. Il Suem 118 di Treviso cambia casa, insomma ecco la nuova maxisede, la struttura da 8 milioni di euro è stata inaugurata dal Presidente della Regione Luca Zaia. La nuova sede del servizio di emergenza urgenza Suem 118 completa una struttura ultramoderna abbinata alla base Helicopter Emergency Medical Center. Case di riposo e centri disabili firmata la nuova ordinanza regionale. L'unio di 22 giugno il Presidente del Veneto ha annunciato le nuove linee guida per le RSA del Veneto e ha lanciato anche un appello ai cittadini per rispettare le regole anti-Covid. Camion finisce fuoristrada due feriti soccorsi dal suo M118, un incidente in Sardaglia della Battaglia in via Farra poco dopo le 12 sul posto anche i vigili del fuoco di Montebelluno e la polizia locale. A provocare lo schianto forse un guasto al mezzo. Scoppia l'estate nella marca Treviso supera i 32 gradi, lunedì 22 giugno il capoluogo di marca tra le città più calde del Veneto e dell'intera provincia, seguita da Gagliarina con 32,1 gradi e Castelfranco Veneto con 31,6 gradi. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Scontro in A23, una donna incastrata nell'abitacolo, incidente all'altezza di Gemone. L'auto è tamponato in modo violento un mezzo della manutenzione stradale. Un incidente lungo l'autostrada A23 all'altezza di Gemone del Friuli Osoppo intorno alle 14.20. È successo nel tratto del cantiere dove c'è un restringimento della carreggiata in direzione a Tarvisio. Una Fiat Punto condotta da una donna, violentemente tamponato, un mezzo addetto all'ammontenzione stradale. La guidatrice è rimasta incastrata tra le ramiere dell'abitacolo. Ciclista travolta alla rotonda tra Viale Palmanova e Liam Meleniano a Udine, incidente tra un'auto e una bici ferita da una donna di 64 anni poco prima di mezzogiorno. Si è verificato un secondo incitente in città a Udine, stavolta ad avere la peggio una ciclista di 64 anni travolta da un'auto guidata da un uomo di 60 anni di Caorle in Viale Palmanova. Incidente sul Cavalcaria grave. Una giovane donna scontro tra due auto in comune di Gonars lungo la viabilità che collega Ontognano a Palmanova. Grave incidente nel pomeriggio intorno alle 16.30 in comune di Gonars lungo la viabilità che collega Ontognano a Palmanova, appunto che per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri che sono intervenuti sul posto per i rilievi alla viabilità, si sono scontrate due auto. Due anziane travolte in centro a Udine, un 82enne ha investito le due donne che stavano attraversando la strada da Piazza Primo Maggio verso Piazza del Patriarcato. La coppia di anziane travolte sulle strisce tra Piazza Primo Maggio e Piazza del Patriarcato a Udine, poco dopo le 11 di questa mattina, un 82enne alla guida di un Alfa Romeo 156 per causa in corso di accertamento, ha investito le due donne, una di 86 anni e una di 79 anni che sono finite sull'asfalto riportando ferite. L'auto proveniente da Piazza Patriarcato era diretta verso Piazza Primo Maggio. Sul posto una pattuglia della polizia locale che si è occupata dei rilievi. Maloria Opicina, soccorso a un 25enne, il giovane aveva lanciato una richiesta d'aiuto al 118, è stato ritrovato in condizioni critiche nella zona del campeggio di Pian del Grisa. È stato ritrovato in condizione critica il 25enne triestino che intorno alle 13.30 ha chiesto aiuto al 112 riferendo di aver avuto un malora. Sul posto, nella zona del campeggio di Pian del Grisa, nei pressi del sentiero 12 che da Opicina va verso il Monte Grisa, è arrivata l'ambulanza che però non lo ha trovato in strada nel punto individuato con le coordinate trasmesse alla Sores al momento della chiamata. Cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa, in studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.